Musica Buonasera, buonasera, benvenuti a Professione Lavoro, il nostro appuntamento settimanale che questa sera arriva la dodicesima puntata, all'ultima puntata e coerentemente con il fatto appunto che siamo arrivati alla puntata del congedo parleremo dell'ultima fase della vita lavorativa delle persone, cioè il tema delle pensioni, un tema che naturalmente oggi fa molto discutere soprattutto dopo la riforma voluta dal Ministro del Lavoro Fornero, un tema che fa molto discutere perché si profilano delle possibili novità per quanto riguarda insomma età pensionabile, possibilità di anticipare magari un po' l'uscita dal lavoro e il passaggio al trattamento pensionistico cercheremo di chiarirci un po' le idee con come sempre due consulenti del lavoro che sono Nicoletta Meloncelli, consulente del lavoro che è presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro di Ferrara e Enrico Balboni che ci ha già validamente aiutato in un'altra puntata di questo ciclo. Quindi parliamo immediatamente di pensioni, oggi come dicevo la normativa di riferimento è la riforma Fornero che venne fuori all'interno del cosiddetto decreto salva Italia del governo Monti nel 2011. portò avanti in modo considerevole l'età pensionabile delle persone, molti anche voglio dire si ritennero svantaggiati insomma da quella riforma che ha fatto appunto molto discutere, come si giustificava quella scelta Balboni? Allora la riforma fu varata in quadro diciamo economico politico di grande tensione perché c'è stato un avvicendamento di breve periodo con il governo precedente, il governo doveva gestire dei saldi di deficit e di debito pubblico molto importanti per cui sicuramente diciamo c'è stato qualcosa che ha guidato comunque le scelte compiute, considerato insomma il peso che la spesa pensionistica ha sul bilancio pubblico. Sicuramente si è deciso di mettere nero su bianco un aspetto che nei sistemi previdenziali è comunque sempre molto importante, cioè è il peso dell'aspettativa di vita della platea che noi dovremo andare in un qualche modo a servire. Per cui è chiaro che se io impianto un sistema che deve garantire trattamenti per 10 anni adotterò certe scelte, se gli anni da garantire sono 15-20 farò scelte differenti. Per onore del vero diciamo il meccanismo dell'adeguamento alla speranza di vita era stato introdotto qualche mese prima dal governo precedente, la decorrenza doveva essere il primo gennaio 2015. Poi il governo Monti e Lafornero anticiparono al primo gennaio 2013 e attualmente questa rivalutazione diciamo dei dati alla speranza di vita è un adeguamento triennale che dal primo gennaio 2018 diventerà biennale in modo da avere una fotografia sempre più aderente rispetto a quello che si va a derogare. Ecco quindi fu una scelta dovuta non soltanto a ragioni di finanza pubblica, questo era importanza sottolinearlo ma fu una scelta anche legata al fatto che viviamo molto di più e quindi il ragionamento fu e anche giusto diciamo così adeguare questo meccanismo pensionistico alla speranza di vita. Questa è la logica, oggi qual è Meloncelli l'età della pensione di vecchiaia in particolare per gli uomini e per le donne? Allora diciamo che oggi per gli uomini sia del settore pubblico che privato sono 66 anni e tre mesi perché c'è già l'aspettativa di vita entrata in vigore e mentre per le donne però solo del settore privato sono 63 anni e 9 mesi mentre per le donne del settore autonomo cioè artigiani e commercianti 64 anni e tre mesi per arrivare come diceva appunto Enrico al 2018 dove tutti sia uomini che donne del settore pubblico e privato avranno 66 anni e 7 mesi. Ecco quindi diciamo c'è un processo di parificazione del trattamento pensionistico cioè dell'età della pensione per gli uomini e per le donne però tradizionalmente in Italia da sempre e non so all'estero le donne hanno ricevuto un trattamento tutt'ora è un po' così insomma di favore nel senso la possibilità di andare in pensione prima. Le cose sono cambiate con la riforma quindi c'è un processo di parificazione che avviene con quale logica? Semplicemente questa qui è una normativa che ha permesso diciamo fino al 31 12 2015 per quello che riguarda le donne di poter andare in pensione con, cioè oggi è conosciuta come opzione donna perché una donna con 57 anni di età e 35 anni di contributi può anticipare la pensione però ha una penalizzazione non da poco quindi dopo sono valutazioni che ogni diciamo persona farà sulla propria persona e sulla propria situazione contributiva perché un 25-30% in meno di pensione per anticipare magari solo di 2-3 anni la pensione probabilmente per molte persone non conviene perché questa penalizzazione poi ce l'abbiamo anche per il resto della vita quindi Ecco questo è importante, va sottolineato, c'è questa possibilità che le donne hanno di ridurre un po' l'età pensionabile però con una penalizzazione con molta parte della propria pensione questo per quanto riguarda la situazione attuale poi vedremo sulle ipotesi per il futuro che cosa sta maturando Balboni, normalmente insomma quello che normalmente le persone diciamo dell'età di mezzo insomma dicono è i nostri genitori sono stati molto fortunati perché sono usciti col sistema retributivo noi siamo un po' meno fortunati perché usciremo con un sistema contributivo poi dipende dall'età insomma ma diciamo il sistema che sta diventando prevalente e totalizzante è quello contributivo che differenza c'è in parole povere? Allora questa è una delle grandi distinzioni diciamo della materia pensionistica quindi sistema retributivo come dice la parola è un sistema che va a calcolare la pensione su quelli che sono i trattamenti retributivi che hai avuto negli anni precedenti l'accesso alla pensione è un sistema contributivo che invece ti riconosce un trattamento sulla scorta dei contributi che sono accreditati sulla tua posizione previdenziale Per tutto l'arco della tua vita lavorativa Esatto esiste una diciamo una linea di confine uno spartiacqua che è stata la 335 del 95 la riforma Dini che tra l'altro è una norma che verrà ricordata anche per aver istituito la gestione separata e quindi aver ampliato dal giorno alla notte la platea dei destinatari della previdenza obbligatoria al 31 12 95 si compie una valutazione che ci permette di capire da quale parte siamo diciamo quindi se al 32 95 abbiamo almeno 18 anni di contribuzione eravamo retributivi se non avevamo contribuzione quindi abbiamo iniziato a lavorare dopo il primo gennaio 96 siamo contributivi se ci troviamo in una soluzione diciamo di mezzo siamo nel sistema misto e quindi avremo un calcolo pro quota Il sistema retributivo diciamo che il sistema retributivo in qualche modo era più favorevole perché alla fine della carriera lavorativa uno uno stipendio più alto se la pensione ti viene calcolata su grosso modo gli ultimi anni di retribuzione è chiaro che alla fine avrai una pensione più alta mentre il sistema contributivo tiene conto dei contributi versati per tutto l'arco della vita lavorativa quindi se per 30 anni nella tua vita hai preso 500 euro al mese poi il fatto che gli ultimi 5 anni ne prendi 10.000 non serve a parificare questo molto rosamente parlando è il tema e per la pensione di anzianità invece che cosa è rimasto qualcosa perché quando uscì la fornero si disse praticamente la pensione di anzianità è stata abolita è veramente così? No diciamo che è rimasta una distinzione tra un trattamento pensionistico a cui si accede in relazione principalmente al dato anagrafico come diceva Nicoletta prima seppur con delle implicazioni anche di carattere contributivo e invece la possibilità in presenza di un certo bottino diciamo di contributi da parte di poter anticipare l'accesso al trattamento quindi questo è ancora rimasto certo che la quantità di contributi che oggi mi sono richiesti diciamo per poter godere dell'agevolazione sono una quota considerevole quindi si parla di 42 anni e 6 mesi e di 41 anni e 6 mesi secondo che si parla di uomini o di donne Diciamo che oggi come oggi quando tu arrivi se arrivi alla pensione di anzianità probabilmente sei anche già arrivato alla pensione di vecchiaia non c'è neanche tanto bisogno insomma una volta magari con i 30 35 anni uno poteva arrivare all'anzianità un po' in anticipo sotto la vecchiaia Esattamente in questo senso si giustifica l'espressione giornalistica dell'abolizione nel senso che pur rimanendo una distinzione diciamo ecco è un po' meno fruibile rispetto a prima Ecco, normalmente quando parliamo di pensioni parliamo di INPS diciamo nel discorso giornalistico quotidiano insomma e invece in realtà ci sono diverse casse previdenziali insomma ecco, molte persone capite, possono essere delle differenze di trattamento oppure no? Assolutamente sì, assolutamente sì perché allora intanto già per quello che riguarda all'interno dell'INPS sono confluite delle casse che pur sempre essendo statali erano però altri enti cito i più importanti che possono essere l'INPS, l'IMDIT o l'IMGI e questi enti sono confluiti nell'INPS ma hanno una loro entità sarà l'INPS a derogare la pensione ma hanno una loro entità e quindi con questo tipo di unificazione il lavoratore dipendente che proviene da questi istituti ha diverse soluzioni dove può andare a fare o una ricongiunzione, una totalizzazione oppure un cumulo fra tutti i contributi dopo lì dipende ogni persona, la propria posizione individuale che cosa conviene fare anche perché la ricongiunzione dei costi, la totalizzazione no però ti dà altre penalizzazioni e il cumulo pure perché il cumulo è l'unica situazione dove puoi far compluire anche ai fini dell'anzianità i contributi della gestione separata, quella nata nel 1996 come diceva appunto Enrico che la platea è molto ampia però c'è una penalizzazione perché tutto quello che trasporti come cumulo passa contributivo quindi se hai una parte di retributivo diventa una penalizzazione e poi esistono le casse private che sono tutte quelle casse legate ai vari ordini professionali che i regolamenti sono diversi fra di loro e la pensione dipende anche lì da quello che uno ha versato in questi anni dopo ci sono dei momenti storici anche nelle casse private dove si versava semplicemente un contributo fisso e c'era una garanzia di un ritorno comunque minimo che adesso anche per loro non c'è più perché tutte le casse adesso sono un sistema contributivo In generale ci sono delle categorie che potrebbero aspirare alla pensione in tempi più rapidi di quelli delineati dalla Fornero? No, le categorie sono quelle previste per legge nel senso l'opzione donna che abbiamo citato prima oppure dopo ci sono casi particolari che possono essere le persone che hanno un'invalidità fino all'80% oppure possono essere persone dello spettacolo, i lavoratori che provengono da lavori usuranti, faticosi, lavoro notturno però parliamo di qualche anno di differenza ma non hanno agevolazioni particolari Ecco quindi non ci sono agevolazioni legate alle categorie di lavoro Solo una battuta sui lavori usuranti che citava Nicoletta Meloncelli C'è questo elenco dei lavori usuranti in cui ogni tanto si parla oppure no? No, esiste, esiste un'elencazione è sostanzialmente un riferimento in alcuni casi a delle mansioni in altri casi a modalità di espletamento della mansione o alla tipologia di lavoratore per cui si fa riferimento al lavoro prestato nelle cave, nelle miniere piuttosto che alla tipologia dei lavoratori notturni che è la normativa In questi casi ci sono degli sconti Esatto, in questi casi è prevista la possibilità se il soggetto può vantare un certo numero di anni nell'esercizio di queste professioni o queste modalità e sono almeno 7 anni negli ultimi 10 anni se si va in pensione prima del 2018 e invece se avverrà poi la metà della vita lavorativa dal 2018 in poi si ha la possibilità di andare in pensione col sistema delle quote e quindi almeno 35 anni di contributi e un'età anagrafica di 61 anni o 62 a seconda che si parla di dipendenti e autonomi Ecco, quindi questo può agevolare determinati lavori particolarmente pesanti Ultima considerazione, abbiamo un minuto e mezzo, due minuti per dire che si parla molto di flessibilità in uscita cioè della possibilità di nuove regole per anticipare un po' l'età della pensione con magari qualche penalizzazione Allo stato attuale non possiamo dire niente di definitivo però un orientamento Un orientamento c'è, diciamo che al vaglio ci sono diverse proposte quindi è il momento in cui c'è il massimo confronto tra opposizione e governo e lo stesso presidente dell'Inps si sta pronunciando in queste settimane diciamo offrendo un'opinione in alcuni casi insomma non coincidente con quella che alcuni si aspettano Diciamo che la proposta, una delle proposte che attualmente è al vaglio sarebbe quella definita alla quota 97 dell'ex ministro Damiano che quindi con 35 anni di contributi e 62 anni di età permetterebbe un accesso anticipato alla pensione con una penalizzazione del 2% per ogni anno rispetto all'età richiesta per la pensione di vecchiaia Qui bisognerà vedere se poi la penalizzazione se dovesse rimanere questo impianto sarà solo del 2% o meno perché si vocifera della possibilità di un ricalcolo totale al contributivo e questo se qualcuno invece ha in dote anni di retributivo potrebbe essere molto più penalizzante rispetto alla sola percentuale che viene indicata però insomma al momento è prematuro l'iniziativa è sicuramente importante perché si spera di far uscire qualcuno dal mercato di lavoro e far centrare qualcun altro Benissimo, quindi questo per concludere un tema che naturalmente avremo occasione di approfondire perché evidentemente non si conclude qui il tema delle pensioni è sempre molto presente anche perché è un po' la cartina di torna sole del modo in cui cambia la società italiana dal punto di vista demografico dal punto di vista della speranza di vita dal punto di vista anche delle condizioni lavorative siamo arrivati all'ultima puntata e per questo come dicevo in apertura abbiamo parlato di pensioni io voglio ringraziare i consulenti del lavoro di Ferrara che insieme a noi hanno voluto condividere questo ciclo di trasmissioni trasmissioni in cui, e lo chiedo a Nicoletta Meloncelli in quanto presidente in cui abbiamo cercato di renderci utili Certo, assolutamente, di dare insomma alcune risposte che tante volte le persone non hanno ecco in maniera così immediata Ecco, quindi è stata un'occasione per noi per affrontare questi temi è stata un'occasione per i consulenti del lavoro per come dire, affrontarli in una sede pubblica e con questo ci congediamo da questo ciclo di 12 puntate e poi vedremo se avremo occasione di andare avanti in seguito con altre iniziative di questo tipo Per ora vi ringrazio ringrazio Nicoletta Meloncelli e Enrico Balboni e come sempre voi che ci avete seguito Grazie Grazie